AdWord Experience, i casi di successo dei migliori inserzionisti AdWords italiani, presenta Francesco Tinti. Francesco è uno degli specialisti AdWords, se non lo specialista AdWords italiano più noto, gestisce campagne estremamente interessanti, sia dal punto di vista della strategia di approccio al canale che come budget, è molto noto in rete con lo pseudonimo di Mr. Jinx, essendo anche uno dei principali moderatori senior della categoria AdWords del forum di Giorgio Tave, e ci presenta un caso particolare di un tour operator molto noto, sia a livello italiano che a livello internazionale, in cui ci presenterà diversi aspetti veramente interessanti della segmentazione estrema di campagne per ottenere il massimo dei risultati possibili in AdWords. Allora, ciao a tutti, Francesco Tinti, mi ha già presentato Gianpaolo, comunque sono un AdWords Specialist, e oggi vi parlo delle campagne Boscolo Travel, in particolare i viaggi guidati. Vado abbastanza al punto, molto rapidamente, mi piacciono cose concrete, quindi ho anche modificato il title della mia presentazione. Il gruppo chiaramente è il gruppo di Boscolo, Boscolo Travel, e fondamentalmente questo gruppo movimenta diversi milioni di euro in prodotti relativi al settore turistico, turistico in Italia, però con, vedrete, destinazioni verso tutto il mondo. Fondamentalmente il primo prodotto che probabilmente conoscerete è il prodotto Boscolo Gift, vi ho portato uno screenshot dell'home page, si tratta, vedremo poi dopo in dettaglio, di un box che può essere acquistato, prego? Si sente basso? Ok, provo a lasciare la voce. Allora dicevo, il primo prodotto si tratta di Boscolo Gift, è un cofanetto che può essere acquistato anche nella grande distribuzione, e si tratta di, fondamentalmente, dei weekend che possono essere acquistati, hanno varie tematiche, sport piuttosto che amore, piuttosto che activities, settore romantico, insomma, sono cofanetti che hanno varie linee e che possono essere acquistati per due persone e queste persone possono usufruire di questo pacchetto per 52 settimane, quindi fondamentalmente un anno da quando viene acquistato, ok? Quindi è un prodotto molto particolare. Possiamo andare avanti? Tanto poi si ritorna. Il secondo prodotto, il prodotto che ci riguarda più da vicino, si tratta di viaggi guidati, quindi viaggi organizzati, ok? Tour di persone, quindi gruppi di persone che hanno passione per i viaggi, che vengono aggregati assieme e vanno a visitare una destinazione con guida. Chiaramente ci stiamo rivolgendo a un target che è completamente diverso rispetto al primo. Puoi andare avanti? Grazie. Ok, i due target sono diversi perché sono diversi prodotti. Nel primo caso abbiamo un prodotto che parte da 99 euro. Si tratta appunto, dicevo, di un box, quindi può essere acquistato in grande distribuzione online piuttosto che presso altri canali. Il sito è un sito e-commerce, quindi l'utente nel momento in cui entra nel mio sito fa un acquisto, ok? Quindi tira fuori la carta di credito per poter pagare il prodotto. Chiaramente appunto, ho dato tutte le caratteristiche prima, quindi posso acquistare un cofanetto e non ho l'obbligo di partire adesso, ma posso partire entro 12 mesi da quando ho fatto l'acquisto. E chiaramente ho una disponibilità per ogni cofanetto di 16, 15, 20 destinazioni, quindi non sono vincolato a una specifica destinazione. Acquistato questo pacchetto, decido anche, non soltanto quando partire, ma anche tra la rosa di destinazioni possibili, dove andare a trascorrere il mio weekend. Per quanto riguarda invece il secondo prodotto di cui vi parlo, in cui entro poi nello specifico, perché la strategia, la struttura utilizzata per le campagne è esattamente la stessa. E io ho scelto di farvi vedere il secondo caso, i viaggi guidati. Si tratta di gruppi di persone che si muovono o in autobus o in aereo, principalmente. È una lead generation pura e sto parlando però di un prodotto che minimo a persona costa 600 euro. Minimo vuol dire che se fate un giro sul sito, poi ci sono anche riferimenti, il primo è www.boscologift.com, il secondo è www.viaggiguidati.it, che adesso sta diventando i viaggi di boscolo.it. Vi accorgerete che il pricing medio è molto, molto, molto più alto. Quindi sto parlando di lead generation pura. Giampaolo, possiamo andare avanti? Perfetto. Comune a due progetti? Ci sono tre punti. Primo punto, l'approccio di marketing a risposta diretta. Quindi l'utilizzo di AdWords esattamente per quello per cui è nato. Marketing a risposta diretta. La seconda cosa... I video completi dei singoli interventi, quello dell'intera giornata e la tavola rotonda finale, li trovi su shop.adwordexperience.it